Dopo un periodo difficile, sì, sono felice per la squadra, per la gente che mi è stata sempre vicina e poi alla fine l'ho pagata, sono veramente felice. Aitomi ha dato una grande palla, io la devo solo spingere dentro, sicuramente grazie a lui, ha fatto un bellissimo gol. Ho lavorato sempre, ho creduto in me, come ha creduto anche la società, tutti i ragazzi e stasera abbiamo pagato. Sono felice che abbiamo passato il turno perché l'Inter è una grande squadra e merita di andare avanti. Hanno cantato il mio nome e sono veramente felice perché anche i compagni mi sono stati sempre vicino, mi hanno dato una grande mano. Il mister mi chiede di fare gol, però come ho detto io non sono uno che fa 20-30 gol a anno, io sono uno che mi impegno per la squadra, faccio il mio gioco per giocare bene la squadra. Sicuramente per un attaccante è importante fare gol come è andato stasera, però per me è più importante la squadra e vincere la squadra.